ciao a tutti oggi andiamo a preparare una ricetta della sardegna questa ricetta è di lisa lisa in cucina ciao tesoro grazie mille per la ricetta te l'avevo detto che l'avrei fatta perché io amo le mandorle e niente voglio andare a provare appunto questo che si chiama spero che lo sto dicendo giusto in caso scusatemi gato de mandorla sembra bergamasco gato de mandorla pota comunque oppure torrone sardo quindi andiamo a fare questa ricetta favolosa è semplicissima da preparare in una padella andiamo a mettere 250 grammi di zucchero e lo facciamo sciogliere il fuoco deve essere basso appena si sarà sciolto andiamo a mettere le mandorle la buccia del limone e infine quando tutto sarà ben amalgamato mettiamo su carta forno oppure su un banco di lavoro ben oleato e andiamo a ritagliare poi il nostro torrone una cosa che vi volevo dire le dosi le troverete nell'info box ma comunque usato 200 grammi di mandorle 250 grammi di zucchero e la buccia grattugiata di un limone ecco qua adesso prendiamo le mandorle le mettiamo dentro mescoliamo e aggiungiamo il limone io qui mi sono preparata la carta forno io userò questa qui in silicone ma voi potete usare la carta forno quella comprata tranquillamente vado a mettere qui il torrone con l'altra metà chiudo e vado a fare un diciamo disco così e mentre ancora è lavorabile andiamo a ricavare dei rombi io mi aiuto con questa formina però potete anche comunque tagliarlo col coltello vediamo prima se viene ok ho dato la forma così poi col coltello l'andiamo a tagliare lo faccio su tutti e vi faccio vedere il risultato finale mentre è ancora appiccicoso prima che si raffredda andiamo a mettere gli zuccherini così e ora pari un 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 Ciao